prova prova allora tanto che non facciamo un video bene bene eccoci qui vabbè l'intro la saltiamo perché voi sapete già chi siamo non mi devo presentare i nuovi allora mi avete chiesto esattamente un po' di giorni fa poi vabbè si sono accumulate le richieste di caricare su google drive dropbox qualcosa sì vabbè c'ho amazon mi avete chiesto di caricare online la cartella del server così almeno anche se il server è chiuso a suo tempo però adesso il server rimane aperto potete cazzeggiare sul server quando vi pare piace adesso caricherò online non solo il mondo ma l'intera cartella del server di un vecchio backup così almeno qua cambiamo account no aspetta allora facciamo così guardate famo così abbiamo direttamente cosa allora adesso sto caricando online il backup del server allora vediamo un po' questo qua che è il più recente come vedete adesso vi faccio vedere cosa contiene come vedete vedere vedere vabbè sì nel frattempo lascio qua la scritta servero stato perché giustamente era anche ora allora entriamo con xx gaming va senza che che esco riaccedo faccio quello faccio quell'altro mettiamo drive google drive ed eccolo qua abbiate pazienza il computer potrebbe essere lenta anche perché soli 2 giga di ram sto aprendo parecchie pagine di chrome che consumano l'era di cristo dio ok quasi vede questo lo sposto un attimo vai su google drive carichiamo allora guardate un po' molti mi chiedono che plug in uso eccoli qua ci sta direttamente la cartella plug in eccola qua magari vi levo magari vi levo la cartella questa qua di economy questo che non la uso più di quella cartella poi vabbè staff plus questi qui diciamo che comunque sia sono ancora plug in che uso vabbè non ci sono mai trovato male oltretutto qua non so che non so cosa sta facendo qua esattamente vabbè sti cazzi non ne frega niente lascia tutto così com'è carico e basta anche perché non monterò questo video non per il fatto che c'ho 2 giga di ram ma perché occupa un po di tempo copiamo qua che cos'era quel messaggio ancora più tardi vabbè si giusta come 10 minuti di massimo vabbè 8 minuti più o meno poi vabbè lo toglierò prima o poi eh tanto mi potesse dare mi pot... mi darebbe... se mi da il link magari potrei pure già ah si Stefano che saluto continua a salutare ok qua sta caricando ci metterà un po' bene allora ehm che dire e adesso esattamente è da un po' che non accedo al server l'ultima cosa ho fatto l'accesso tipo 2 giorni fa 2-3 giorni fa per aggiungere un'altra piccola cosa io di tanto in tanto ragazzi aggiungo se voi avete qualche consiglio non su plugin ma più che altro su contenuti non su plugin ma più che altro su contenuti perché giga rimangono sempre 2 vi ricordo quindi aggiungo meno plugin possibili l'essenziale proprio però vorrei utilizzare i plugin che già ho per aggiungere roba io vorrei evitare sinceramente di aprire minecraft per non far niente alla fine ma vorrei vorrei aprirlo per aggiungere semplicemente roba anche perché mo' siamo tentati a portare contenuti su gta visto che hanno fatto l'aggiornamento io e daniel ci siamo sempre tagliati con gta quindi vabbè riporteremo anche minecraft logico o farò anche live su minecraft da solo o con daniel dipende logico come vediamo dobbiamo vedere anche nel tempo qua 5 minuti io comunque sia vi lascio potete supportare il server con voi mi raccomando soprattutto per l'abbonamento anzi quasi quasi riduco pure il prezzo quasi quasi volendo anzi vediamo un po' il pannello bui mentre qua carica voglio farvi vedere un attimo come funziona i pagamenti in app io utilizzo questo plugin comunque comunque sia no non mi vado a rimettere tutto che palle i coglioni poi il bello è che salvo 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 qua compare la solita scritta salva la password ecco il cazzo che lo salvi qual'era la password dovrebbe essere questa? si era questa allora quasi quasi creerei un'altra variante di allora questi sono tutti i pagamenti eccolo salva tanto la prossima volta mi richiederà di inserire i dati manualmente infame allora cloniamolo non vi spiego perchè voglio creare un'altra variante però senza mine coins questo lo metto magari a 2 euro e 99 anzi famo 2 euro e non lo posso mettere manco tanto basso perchè poi sono più le tasse piuttosto che quello che riceviamo noi per il server quello che riceviamo noi per il server qua tutto a posto ovviamente i poteri rimangono gli stessi ok perfetto creiamo creiamo e quasi quasi aggiungo roba allo starter pack visto che abbiamo abbiamo messo parecchie cose ormai lo starter pack ciao aspettate un attimo ok allora lo starter pack innanzitutto la spada in ferro la spada in ferro la spada in ferro semplicemente così la spada in ferro non la lascio give generator generator ci mettiamo qua sta a caricare vero? sta a caricare si ok allora quello che uso io per qualche tutorial qualche tutorial sparso allora copiamo il name qua perchè ovviamente il name andrà a sostituire il giocatore che acquisterà il coso il pacchetto diamond sword anziché la spada di ferro è una bella spada di diamante diamogli l'inchantamento al diamogli il knockback 2 poi l'inefficienza non ce l'ha un bragging dove lo è? eccolo qua ci mettiamo 3 poi ci mettiamo ci mettiamo ci mettiamo flame penso che sia per l'arco fire aspect mettiamoci 1 penso che sia giusto eh poi se sbaglio come un coglione segnalatemelo perchè è probabile che aggiungo qualche enchantment a caso looting mettiamoci 1 punch non penso perchè ci sta knockback e basta direi chiamiamola spada spada non lo so spada io quei nomi non so buono comunque vabbè questo è risaputo ok qua qua quasi fatto non lo so spada starter pack troppo tamara tamara così a caso spada spada dello starter pack era troppo imprevedibile quindi allora quantità 1 anzi sai che c'è? mettiamo 2 va che se sdoppiano poi cioè c'è tal 2 però in teoria si dovrebbero sdoppiare bene allora give me questo qua a posto e lo incolliamo qua così che acquista give me andiamo un po' ok ok io qua costa 1 euro e 99 pochissimo metterei le monete da 500 a 1 milione io 2 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 un milione perfetto ragazzi per tenere il server aperto purtroppo costa la spada è in diamante con knock back 1 no 2 si ciao chi si ricorda buonanotte ci stanno i numeri qua comunque penso che knock back allora un po' si ricordo bene era 2 fire aspect 1 umbra king 3 fire aspect erano 4 almeno 1 2 3 4 capitano a me però non mi vado a andare a vedere enchantment list che palle eh vabbè capita non capita purtroppo vabbè qua caricato ragazzi io vi lascio il link mo finisco questa cosa se no il video diventa troppo lungo poi per niente eh vi lascio il link in descrizione e mi raccomando sostenete il server vabbè questo era un po' vabbè comunque sia basta che entrate alla fine vi divertite l'importante è questo alla prossima è un po' vabbè è un po' vabbè